Ed ora la visita in Abruzzo della Presidente del Senato Elisabetta Casellati, arrivata a Scurcola Marsicana per presenziare la cerimonia di inaugurazione del monumento Scurcola, città della battaglia. La seconda carica dello Stato è stata accolta, la vedete in queste immagini, da diverse autorità civili, militari e religiose, tra gli altri naturalmente il Presidente della Regione Marco Marsilio. L'iniziativa ha voluto omaggiare il centro marsicano quale cittateatro della celebre battaglia dei Piani Palentini, avvenuta tra Svevi e Angioini il 23 agosto 1268 e che ha cambiato le sorti dell'Italia e anche dell'Europa. Oltre al monumento, con la riqualificazione di un'area verde, è stato inaugurato anche un murales realizzato su una cabina elettrica con immagini di scena di battaglia. Il Presidente del Senato ha poi preso la parola, dobbiamo ripartire dai territori, ha detto tra le altre cose, che ci parlano con la loro bellezza. Al termine della cerimonia, il Sindaco di Scurcola, Nicola De Simone, le ha consegnato il riconoscimento città di Scurcola. Il Presidente Marsilio, infine, ha parlato di giornata storica per l'Abruzzo e ha lanciato un appello alla Casellati sulla sorte dei tribunali minori affinché la proposta di legge e di iniziativa del Consiglio regionale d'Abruzzo riprenda il suo percorso in aula presso la Commissione Giustizia del Senato e i tribunali oggi a rischio continuino appieno la loro funzione giudiziaria, garantendo ai territori la loro permanenza. Grazie. Grazie a tutti.